il treno regio express 33 379 di treno orde delle ore 0 e 28 per milano centrale e in partenza dal binario 2 ferma alcolico bellano tartavalle terme varennesino mandello dell'ario lecco monza il treno regionale 25 53 di treno orde proveniente da sonrio e diretto a milano centrale delle ore 5 e 51 e in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma alcolico bellano tartavalle terme varennesino mandello dell'ario lecco calozio corte olginate carnate usmate monza il treno regionale 25 55 di treno orde proveniente da sonrio e diretto a milano centrale delle ore 5 e 58 e in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma alcolico piona dorio dervio bellano tartavalle terme varennesino fiume latte lierna olcio mandello dell'ario abbadi e lariana lecco calozio corte olginate cernus comerate carnate usmate monza il treno regionale 52 61 di treno nord proveniente da sonrio e diretto a calozio corte olginate delle ore 6 e 15 e in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma acosio tra una colico piona dorio dervio bellano tartavalle terme varennesino fiume latte lierna olcio mandello dell'ario abbadi e lariana lecco il treno regio express 25 57 di treno orde proveniente da tirano e diretto a milano centrale delle ore 6 e 58 e in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma alcolico bellano tartavalle terme varennesino lecco monza il treno regionale 52 60 di treno orde proveniente da colico e diretto a sonrio delle ore 6 e 59 e in arrivo al binario 2 attenzione allontanarsi dalla linea gialla allontanarsi dalla linea gialla ferma talamona ardenno masino san pietro verbenno il treno regionale 52 63 di treno orde proveniente da sonrio e diretto a calozio corte olginate delle ore 7 e 17 e in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma in tutte le stazioni eccetto rovolo regoledo lecco maggianico verculato san gerolamo il treno regionale 52 62 di treno orde proveniente da lecco e diretto a sonrio delle ore 7 e 27 e in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla fermata la mona ardenno masino san pietro verbenno il treno regio express 25 50 di treno orde proveniente da milano centrale e diretto a tirano delle ore 8 e 02 e in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma sonrio presenda aprica teglio il treno regionale 52 64 di treno orde proveniente da lecco e diretto a sonrio delle ore 8 e 40 e in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla fermata la mona ardenno masino san pietro verbenno il treno regionale 52 66 di treno orde proveniente da sonrio è diretto all'eco delle ore 9 e 17 e in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla fermata la mona ardenno masino san pietro verbenno il treno regionale 52 67 di treno orde proveniente da tirano e diretto a milano centrale delle ore 9 e 58 e in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma in tutte le stazioni eccetto rogolo regoledo il treno regionale 25 65 di treno orde proveniente da tirano e diretto a milano centrale delle ore 9 58 e in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla allontanarsi dalla linea gialla ferma a colico bellano tartavalle terme varennesino lecco monza il treno regionale 52 57 di treno orde proveniente da sonrio e diretto a colico delle ore 13 e 41 e in arrivo al binario 2 attenzione allontanarsi dalla linea gialla attenzione allontanarsi dalla linea gialla allontanarsi dalla linea gialla ferma a cosi o tradona dell'ebbio il treno regionale 25 71 di treno orde proveniente da tirano e diretto a milano centrale delle ore 15 e 58 e in arrivo al binario 2 attenzione allontanarsi dalla linea gialla allontanarsi dalla linea gialla ferma a colico bellano tartavalle terme varennesino lecco monza il treno regionale 25 66 di treno orde proveniente da milano centrale e diretto a tirano delle ore 18 e 02 e in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla allontanarsi dalla linea gialla il treno regionale 52 07 di treno orde proveniente da tirano e diretto a colico delle ore 21 e 17 e in arrivo al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla Ferma a Cosio Traona, De Levio. Il treno Reggio Express, 2578, di Trenord, proveniente da Milano Centrale, è diretto a Sonrio, delle ore 22.02, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Non sono previste fermate intermedie. Il treno Reggio Express, 2585, di Trenord, proveniente da Sonrio, è diretto a Milano Centrale, delle ore 21.43, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a De Levio, Colico, Bellano Tartavalle Terme, Varenna Esino, Mandello Dellario, Lecco, Calolzio Corte Olginate, Cernus Comerate, Carnate Usmate, Monza. Il treno Reggio Express, 33.385, di Trenord, proveniente da Sonrio, è diretto a Milano Centrale, delle ore 22.58, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Colico, Bellano Tartavalle Terme, Varenna Esino, Mandello Dellario, Lecco, Monza. Il treno Reggio Express, 33.385, di Trenord, proveniente da Sonrio, è diretto a Lecco, delle ore 22.58, è in arrivo al binario 2, invece che al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Colico, Bellano Tartavalle Terme, Varenna Esino, Mandello Dellario. Il treno Reggio Express, 33.377, di Trenord, proveniente da Sonrio, è diretto a Cosio Traona, delle ore 23.58, è in arrivo in ritardo al binario 2, invece che al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. 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 Grazie a tutti.